...e realizzare solo due sconfitti in questo campionato, il giorno è stato complicato perché abbiamo preso solo due giornate in anticipo e quindi siamo contenti, è stata difficile ma i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. Quindi un cartero a questo lato di cattore e abbiamo sentito che l'obiettivo in questa stagione era appunto quello della promozione, quindi sicuramente una squadra costruita avversaria ma qual è stata un po' la forza vincente di questo gruppo? Beh, siamo riusciti a giustinare un gruppo...